E si ritorna per un altro grande sabato, ma dove, dove, dove? Sempre più sprintosi che mai dal gattino, da Felix, Ristopob Felix di via Cerillo 93 a Bacoli perché mese di marzo sotto il cuoricino di Crazy Love Television. E anche questa sera ci sarà la nostra animazione, ci sono i nostri gadget, i cuori di Crazy Love e c'è il divertimento, la buona cucina che vi offre solo il Felix, il gatto più conosciuto di Napoli. E poi ci sono in bassa frequenza questa band che sta ormai, si sta estendendo sul nazionale che tra un po' poi porteremo qualche esponente ai nostri microfoni, insomma il Felix un ambiente caldo accogliente, una bella taverna napoletana dove si può ballare anche sui tavoli, karaoke, divertimento, ball d'ore a 100%. Andiamo in giro e vediamo il grande sabato del Felix. La canzone viene a te, sta canzone viene a te Catalina, 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 Catalina Voglio fare altro do solo, voglio fare altro do solo Baffa che è il gatto di chi? Chissà il cuore ma si forcia, si è imparato giù i ghiere, che avevo fatto una niente fede, una niente morta. Ma può passare la fede, una domanda c'è un ria, che a stringi è questa mano mia e questa mano c'è trova. Sta canzone viene a te, sta canzone viene a te. Catarina, 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 voglio parlartelo sola, voglio parlartelo sola. Baffa che la cattighi, a baffa che la cattighi. Bacarina, Catarina, 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 Catarina. Fax di Bacoli, il grande ritorno di bassa frequenza che poi di 80 bassi non sono forse un po' tu. Li conosciamo una volta, nome e cosa fate? Gino Cantante. Rino Batteria. Raffaele Basso. Genni Tastiere. Giulio Chitarre. Cioè Raffaele Basso, è proprio magari Gino Basso, vabbè. Comunque, insomma Nino, è sempre bello ritrovarti, ritrovare un amico, gli amici di sé. È un piacere, innanzitutto l'amicizia, poi l'arte, la musica, quando segue. Ebbè, Felix di Bacoli, un grande locale, una grande location, una grande taverna dove fa divertire tutto. E voi avete fatto divertire con la musica, infatti abbiamo visto anche le immagini. Genni, il grande amico Bottigliani, insomma, il tuo genere musicale preferito? Tu che suoni questa musica così da taverna. Il mio genere preferito? Ma quello di bassa frequenza, ovviamente. Aspetta, ma la domanda non era questa? Vabbè, comunque ho improvvisato. Eh sì, me l'hai cambiata. Il mio genere preferito? Soul, pop, jazz, funky, revival. Ah, mi pensavo solo Marlou. Taverna, taverna. Margherita, maratona, maratona. Insomma, questo di bassa frequenza dal Felix di Bacoli, Crazy Love Television. E mentre sullo sfondo c'è la grande musica live del Felix, a fianco invece il grande uomo del Felix, io l'ho detto, il matador, Paolo. Ciao, buonasera a tutti gli amici di Crazy Love, buonasera a te Cici. Ciao Paolo, è il momento questo di ricordare gli appuntamenti del Felix, perché ogni sabato e non solo, grandissimi eventi. Ci siamo raddoppiati anche negli eventi, oltre Radio Marte faremo anche Kiss Kiss Napoli. Sabato prossimo direttamente da Kiss Kiss Napoli ci sarà Max Giannini. E quel sabato che verrà dopo ci sarà direttamente questa volta da Radio Marte il mostro Gianluca Manzieri. Quindi, come vedete, il Felix vi ha preparato tutto il mese e noi saremo ogni sabato, caro mio, a documentare. Bellissimo, perché ci sarà anche un grande venerdì che costerà solamente 10 euro. Informiamoci, informiamoci, dimmi tutto. Ci saranno qui due Dark Queen spettacolari, ve lo dico solo, bellissime, bellissime e bellissime. Non si sa. Ci saranno Cerasella e Maruzella a fare una grandissima tombolata. Il prezzo è quello l'anticrisi, 10 euro, quindi... Guarda che già il nome incuriosisce, quindi vi conviene venire anche il venerdì. Tutti gli appuntamenti, ci sono le nostre schede in onda. Intanto continua il ritmo della benda alle nostre spalle. Io vi ricordo un'altra cosa importantissima che è l'indirizzo del Felix, via Cerillo 93. Il numero lo vedete in sovraimpressione, insomma, o scorre o è qui negli angoli. Ci salutiamo sempre con la solita frase, Paolo il tuo cognome è Maia, un giorno si farà vedere il pungiglione. Vi aspetto col pungiglione e ciao belli, fate bravi! Grazie a tutti!